Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera occupandoci di attualità. In Campania 183 milioni per il piano scuole. Il presidente Lombardi segnale importante, ma non basta per mettere in sicurezza tutti gli edifici. Per i particolari seguiamo il prossimo servizio curato da Antonella Citro. In Campania arrivano 183 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici previsti dal governo su tutto il territorio nazionale. Il riparto prevede 171,3 milioni di euro per la piccola manutenzione, 3 milioni e 304 mila destinate alla messa in sicurezza delle scuole, con particolare attenzione alla rimozione dell'amianto e all'eliminazione delle barriere architettoniche. 8,3 milioni di euro sono destinate alla realizzazione di nuove scuole. I dati sono stati estrapolati dal Centro Studiancia e Salerno, dal focus analitico nazionale realizzato dal Lance sul piano di edilizia scolastica del governo Renzi. Complessivamente potranno essere attivati 3.683 progetti. Il Centro Studiancia e Salerno segnala inoltre che in Campania gli edifici scolastici esposti a un elevato rischio sismico sono 4.872, mentre quelli ad un elevato rischio idrogeologico sono 1.017. Il piano per l'edilizia scolastica messo in campo dal governo Renzi, dichiara il presidente di Ancia e Salerno Antonio Lombardi, è senza dubbio un segnale positivo che va nella direzione giusta. Le condizioni complessive degli edifici che ospitano le scuole soprattutto nel mezzogiorno in Campania sono però insufficienti in termini di sicurezza idrogeologica e sismica. Occorre augurarsi un impegno celere. E occupiamoci di politica. In seguito alla notizia dell'impedimento alle candidature dei sindaci dei comuni con più di 5.000 abitanti contenuta nella norma inserita dalla regione Campania nel collegato al bilancio, già approvata in commissione dal centro-destra e che sarà in aula la prossima settimana. Il primo cittadino di Salerno, Vincenzo De Luca, che verrebbe di fatto ostacolato dalla norma, dichiara quanto segue. Pare che in regione si stiano molto preoccupando della mia persona al punto da preparare la cosiddetta legge anti De Luca per impedire una mia eventuale candidatura. Continua il sindaco di Salerno. Hanno talmente paura che qualcuno possa voltare pagina e che lo possa fare non sulla base dei sospiri e delle poesie del finto rinnovamento del giovanilismo a tempo perso. Sono così carini, a loro va tutta la mia solidarietà, siate sereni, amici miei e pensate alla salute. Queste le ultime parole con cui scherza ironicamente il sindaco De Luca. Se vorrà candidarsi alle prossime elezioni regionali, il sindaco di Salerno dovrà quindi dimettersi dalla carica di sindaco 180 giorni prima dalla presentazione delle liste. Occupiamoci ora di sanità. È un reparto al collasso, quello di Ottorino-Laringoiatria del Luigi Curto di Polla. Il presidio ospedaliero polleste, che da mesi ormai si trova a far fronte ad una carenza di ben 64 medici, resta il più bistrattato tra gli ospedali dell'Asla Unica di Salerno. L'ultimo problema in ordine di tempo riguarda Ottorino-Laringoiatria. Al fine, infatti, un solo medico assicura le attività del reparto. Se nove anni fa vi erano in servizio quattro specialisti, nel tempo la situazione si è negativamente evoluta. Da quattro medici in forza si è passati a due. Questo fino a qualche giorno fa, quando a causa una malattia anche un altro specialista ha lasciato il reparto e ne avrà per almeno tre mesi. Ciò vuol dire che non appena il solo Ottorino-Laringoiatria, rimasto in servizio, andrà in ferie, il rispettivo compartimento chiuderà. Per scongiurare l'ipotesi, il direttore sanitario del Luigi Curto, Aristide Tortora, avrebbe bloccato le ferie dell'ultimo medico, in attesa di ulteriori determinazioni della direzione generale dell'Asla, proponendo l'accorpamento dei reparti di Polla e Vallo della Lucania per un miglior funzionamento dell'apparato. E cambiamo pagina. Ci occupiamo di Teggiano. L'amministrazione comunale guidata da Rocco Cimino ha pensato di lanciare una singolare idea sui muri della città-museo. Infatti, un manifesto annuncia l'arrivo di un nuovo cittadino. Vediamo di cosa si tratta. Ogni volta che nasce una nuova vita, il mondo si illumina di speranza. Il comune di Teggiano intende con questo singolare e inedito annuncio partecipare all'intera comunità la nascita di un nuovo bambino. E già oggi, sui muri della città-museo del Vallo di Diano, viene reso noto l'arrivo di un nuovo cittadino. Si tratta del piccolo Angelo Blasi, al quale la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Rocco Cimino dà il suo benvenuto, formulando affettuosi auguri ai genitori Marcello e Lucia. E' soltanto l'ultima innovativa iniziativa, formulata dalla nuova amministrazione guidata dal nostro sindaco Rocco Cimino, dice il consigliere comunale Vita Antonio Cobucci. E' un modo nuovo di annunciare una nascita che vuole essere di buon auspicio per l'intera nostra comunità. Ogni nuova nascita, infatti, conclude Cobucci, è una risorsa eccezionale per Teggiano ed è giusto che fin dal primo vagito venga accolta con affetto, amore e attenzione da tutta la comunità. E' un modo in definitiva per far partecipare tutti alla festa per un nuovo nato, come buon augurio per un futuro di pace, serenità, armonia e progresso. Analoga iniziativa è stata messa in atto anche a Pollica e non escluso che dopo l'esperienza di Teggiano altri comuni possono seguirne l'esempio. Un modo, insomma, molto sentito per far sentire l'affetto di un'intera comunità quando in una famiglia si accoglie e si dà il benvenuto a una nuova vita. E passiamo alla pagina degli eventi. A Sala Consilina si è registrata una grande partecipazione al Grest 2014. Emozione e divertimento dei piccolissimi ma anche dei più grandi. Vediamo il servizio. Grande partecipazione al Grest 2014. Sono circa 120 bambini protagonisti del campo estivo conclusosi l'altro ieri nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna a Sala Consilina. L'evento è stato organizzato dal Parroco di Luciano La Peruta dalle parrocchie di Sant'Anna e Sant'Antonio. Il progetto denominato Piano Terra ha riscosso un notevole successo articolandosi in varie attività di gioco, sport e realizzazione di piccoli manufatti il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Il Grest si è svolto soprattutto all'interno della struttura sportiva Palazzingaro con attività ludiche di vario genere ed è stato coordinato da operatori del settore sportivo e non solo che con la collaborazione di tantissimi genitori e adolescenti sono riusciti volentieri a intrattenere e divertire le centinaia di bambini che appollavano gli spazi sia all'interno che all'esterno della struttura sportiva. Le manifestazioni poi si concluderanno con le celebrazioni e i riti religiosi in occasione della festività di Sant'Anna. Tanto divertimento e diversi insegnamenti insomma resteranno impressi nella mente e nel cuore dei tantissimi bambini che hanno socializzato in primis tra loro e hanno avuto modo di apprendere tanto divertendosi soprattutto. E per la nostra consueta rubrica vallo a comprare vediamo chi è l'ospite di quest'oggi. Concludiamo questa settimana con l'ultima intervista per le attività commerciali storiche sul territorio del Vallo di Diano ma soprattutto a Sala Consilina. Adesso in via Mezzacapo a San D'Antonio di Sala Consilina e anche ad Atena Lucana abbiamo un centro che è presente da tantissimi anni, da oltre 30 anni ma entriamo per conoscerne i particolari. Per analizzare bene perché c'è tanto da parlare di questa attività commerciale io mi accomodo a fianco al protagonista le rete di questa attività Antonio Petrocelli Antonio buongiorno Buongiorno Allora parliamo con te perché ovviamente si parla di alimentari si parla di supermercati di piccole botteghe che iniziano in quale anno Antonio? Quindi andiamo indietro nel tempo e chi è stato ad aprire questa attività? Precisamente mio padre nel 1962 ha iniziato la prima attività come alimentarista in via Stazione a Sala Consilina poi nel 72 si è trasferito a San D'Antonio dove oggi abbiamo il punto vendita fino al 90 l'ha gestito mia madre poi dal 90 in poi ho preso io in mano tutta la situazione Ebbè con Antonio quindi siamo già negli anni 90 gli anni d'oro diciamo anche del Vallo di Diano quando gli investimenti erano importanti e poi cominciavano le prime grandi collaborazioni perché non si tratta solo di vendere gli articoli ma di essere associati con qualche marchio importante con quale per primo Antonio? Per primo con Crai dove sono stato anche fortunato sia io che un mio cliente che ha vinto un'autovettura nuova con un concorso che ha fatto la Crai quindi ha vinto un'autovettura per un'estrazione per un'estrazione sì poi nel 97 siamo passati con Gea e di cui abbiamo aperto anche il punto vendita di via Mezzacapo dove c'era prima una banca di San Matteo poi banca di Salerno quindi in pieno centro di Salaconsilina in pieno centro sì e poi nel 2012 abbiamo aperto anche sul territorio di Atena un supermercato molto più grande con parcheggio con tutte le comodità dove noi diciamo diamo più spazio a qualcuno che vuole venire con la vettura a parcheggiare tranquillamente e fare la sua spesa l'avvento di Antonio porta sicuramente a queste collaborazioni ma io ho visto anche altri marchi Antonio che sono importanti e sono sicuramente farina del tuo sacco eh sì io ultimamente ho pensato di essere indipendente quindi mi sono fatto un marchio mio sia come Cometa ad Atena e il nuovo look diciamo di Salaconsilina come supermercato di Petrocelli invece tua madre ovviamente adesso assiste mia madre è pensionata quindi assiste da lontano diciamo il lavoro che io ci volgo con tutta la mia azienda con i miei 16 dipendenti siamo in chiusura dell'ennesima attività commerciale dell'ennesima puntata di Vallo a Comprare i numeri 334 29 21 523 e anche l'email infochiocciolacosmostv.it per fare in modo che la prossima puntata possa essere la vostra scriveteci e chiamateci nella mia città e passiamo alla cultura il circolo sociale Carlo Alberto 1886 presenta domani presso la sede Sita Padula la quinta edizione del concorso nazionale di pitture estemporanea denominata Scorci di Padula la manifestazione ha lo scopo di promuovere e divulgare l'arte della pittura richiamando nella città della Certosa vari artisti per ritrarre dal vivo gli scorci del paese rivivere la memoria storica del centro storico all'interno delle sue tradizioni mettendo in risalto le bellezze naturali gli angoli più suggestivi e caratteristici della cittadina assolutamente gratuite senza limiti d'età la partecipazione al concorso le tre migliori opere selezionate dalla giuria verranno premiate nel seguente modo primo classificato 400 euro secondo 250 euro terzo classificato 150 euro al concorso saranno ammessi tutti coloro che avranno fatto pervenire la loro adesione presso il circolo Carlo Alberto di Padula sul cartellone resta in Villa 2014 il programma dell'estate salese Antonella Citro ha ascoltato per noi il consigliere comunale Elena Gallo e due ragazzi dell'associazione i ragazzi di San Rocco vediamo le difficoltà economiche non soltanto del nostro paese credo che sia una difficoltà a livello nazionale ci hanno consentito di dare il massimo mettendo su questo cartellone ne siamo però particolarmente fieri perché come si vedrà abbiamo dato spazio a quelli che sono i nostri talenti quindi ogni giovedì si terranno delle serate dedicate soprattutto ai giovani e vedremo esibirsi quelli che sono gli artisti di sala che stanno dando onore a questa città avremo Fausto Marino avremo Luigi Gargano Luca Aniston Totino Melillo Daniele Lettieri l'imparato band abbiamo ritenuto che fosse diciamo fosse doveroso dare spazio ai nostri giovani per far divertire i nostri giovani ci saranno poi altre serate dedicate agli anziani ci sarà una giornata dedicata allo sport perché questa amministrazione vuole dare prova che lo sport non va abbandonato in estate anzi avendo maggior tempo è giusto che lo sport venga praticato soprattutto in estate il mercoledì invece verrà dato spazio alle compagnie teatrali alla festa dell'anziano e ad altre serate che allieteranno diciamo le serate nei limiti del possibile della nostra cittadina siamo in compagnia siamo in compagnia di Claudio ed Erika della compagnia dei ragazzi di San Rocco che fanno parte del cartellone dell'estate salese Restate in Villa infatti il prossimo mercoledì 6 agosto è di scena benvenuti in teatro dunque anche questa è un'occasione chiaramente per parlare di teatro per parlare di cultura di che cosa parliamo che cosa è questa commedia sì la nostra commedia si ha come tema centrale proprio il teatro e in particolare rispecchia quella che è la società attuale dove spesso al teatro non viene data la dovuta importanza quindi noi abbiamo voluto presentare appunto questo spettacolo dove sosteniamo il teatro che è poi la nostra principale attività e vogliamo far capire quella che è l'importanza appunto di questa di questa attività di questo teatro Claudio invece che cosa è questo diciamo che cosa andiamo a vedere qual è la trama di questo spettacolo lo spettacolo parla di un vecchio teatro che è stato abbandonato dove ci sono un gruppo di attori che provano a far rivivere questo teatro ma a un certo punto entrerà un personaggio dello Stato che proverà a chiuderlo definitivamente questo teatro e alla fine si scoprirà che questo teatro non verrà distrutto e poi ci saranno molte più sorprese e si vedrà alla fine ci sarà da divertirsi lunedì 28 luglio 2014 alle ore 10.30 conferenza stampa nella sala consigliare del Palazzo di Città per la presentazione della ventunesima edizione della rassegna di arti, mestieri e usanze e della rivocazione storica del passaggio di Carlo V avvenuta nel 1535 Carlo V nella terra della sala che si terranno nei giorni 1, 2 e 3 agosto a conclusione della conferenza stampa il presidente Antonio Romano e il consiglio direttivo dell'associazione arte e mestieri Diego Gatta di Sala Consilina assegneranno premi di riconoscimento ai fedelissimi soci affezionati che da oltre un ventennio collaborano per la buona riuscita dell'evento culturale interverranno per l'amministrazione comunale il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone l'assessore alla cultura Gersomina Lombardi il consigliere delegato allo spettacolo Olga Farina per l'associazione arte e mestieri il presidente dell'associazione arte e mestieri Antonio Romano per la BCC Montepruno di Roscigno e Laurino partner dell'evento che sostiene interamente le spese relative agli spettacoli del gruppo storico città di Corinaldo con Busta Revixi e dell'associazione Tamburrini e Mamagini del corteo storico Corsa alla spada e Palio città di Camerino il direttore generale Michele Albanese e lunedì sarà ospite di Buongiorno Vallo dalle ore 8 alle ore 13 ogni ora il presidente dell'associazione arti, mestiere e usanze Antonio Romano e venerdì primo agosto alle ore 18 e poi alle 20 alle 22 nella suggestiva spezierina della Certosa di San Lorenzo a Padula continua la rassegna Tanagria dell'epica della donna per la regia di Salvatore Ungaro a cura dell'associazione turistica Proloco di Padula dopo il successo di pubblico e critica avuto nelle prime giornate continua la pièce teatrale sul triste fenomeno del femminicidio ed ora cambiamo argomento passiamo alla pagina sportiva calcio valdiano un solo colpo di mercato tra basso profilo e strategia vincente vediamo a poco più di una settimana dall'inizio del ritiro fissato per lunedì 4 agosto in casa valdiano del padron Carmine Cardinale neopromossa in eccellenza massimo torneo regionale dei dilettanti e dopo aver riconfermato alla guida tecnica ciccio tudisco a differenza di altri antagonisti finora non è stata particolarmente attiva sul mercato per la cronaca si registra infatti un solo colpo in entrata legato all'ingaggio dell'estremo difensore Gianfranco Faggiano 24 anni ex temeraria che va a prendere il posto del non riconfermato Mazza perché non ha raggiunto l'intesa economica con i dirigenti valdianesi invece appare del tutto sfumato l'arrivo del centrocampista Pasfuzzo ex Valdagri che sembrava in procinto di vestire la maglia azulgrana vanno inoltre segnalati due arrivi in chiave under entrambi i 17 anni la manna e Caggiano poca cosa se si considera che la squadra si è appressa a affrontare il più importante campionato regionale ritenuto tra i più competitivi in Italia la cui difficoltà è notoria a tutti vista la qualità che riesce a esprimere basta dare uno sguardo ai risultati conseguiti dalle squadre campane nelle competizioni nazionali playoff e Coppa Italia cerchiamo di capire in che direzioni si stanno muovendo il direttore sportivo Paolo Vertucci e Incompany finora la squadra ha deciso di mantenere un profilo basso e a giudicare da come si sta muovendo il valdiano potrebbe anche essere la scelta anche se apparentemente rischiosa appare per certi versi oculata soprattutto alla luce della riforma dei campionati appare così inevitabile che i dirigenti abbiano deciso di muoversi in questa direzione per cui i tanto invocati rinforzi stentano ad arrivare e con lo sport termina qui la nostra edizione prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti 0 9 7 5 20 68 28 per le mail info chiocciolacosmostv.it per la programmazione streaming su internet www.cosmostv.it grazie per essere stati con noi come sempre vi do appuntamento alla prossima edizione intanto vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Cosmos TV buona serata a tutti grazie per la visione